Allora, se tanto mi da tanto ci conviene andare a controllare qui a nord se c'è qualcosa C'è un indicatore in effetti, c'è Non mi pare c'è niente qua, magari mi sbaglio Perché c'è la musica? Uh, voci Cazzo Sì, 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 voci, voci, voci Sì È quello che ti meriteresti Perché non mi tiri fuori la spada? Cazzo 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 Vieni qua Cazzo Muori, stronzo Allora Carota imbottita Cubitire a piastre E adesso il tuo amichetto Ciao agonizzante È quello che ti meriti Cazzo Cazzo Penso che sia quello che serve per pulire il Gli zoccoli appunto del cavallo Capitano sarà contento di sapere che ho trovato i responsabili Anche se ho rischiato di morirci Agilità Le cadute causano il 30% di danni in meno Se proprio devo evito Se proprio devo evito Sono anche ferito Toraccio è ferito Toraccio è ferito Cura le ferite meno gravi Speriamo sia così Sì Infatti si stanno curando Si stanno curando le ferite Perfetto E sta anche salendo la barra della vita con Con quella della stamina Quindi loro non volevano che qualcuno venisse scoperto E c'è qualcuno che ha fatto il furbo Bene Fa piacere Cosa c'è qui? Cosa che devo fare? Devo trovare chi è il... Trovo il proprietario di Netta Zoccoli Di Noehoff Non posso parlare con lui Vediamo un attimo Se parlando con... Un ragazzo qua mi dice di chi è Mark Do you know anything about Ginger? Do you know whose hoofpick this is? Ginger He was always bragging Vedi? Ecco perchè era prima tutto... Dove può essere andato? Dove può essere andato? Dove può essere andato Dove può essere andato? Mmm... Se solo non pesassi così tanto Andiamo di parlare e fare rapporto al capitano va... Capitano... Capitano... Capitano Ghinio ha rapporto... Capitano... 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 Ma io ho già fatto... Capitano... Capitano... Stevi... Uhhh... C'è ragione E' lui? Che stronzo! Do you know anything about this hoofpick? Yeah, it's Ginger's. He had it made him ratty. What in the world happened here? The bastards attacked us. At night, a little before dawn. And how did you come by that wound? I heard someone talking, so I went to look outside, and I saw what they'd done to the horses. I shouted at those bastards. Caught one by the cloak and started beating him. Without a weapon? With just your fists? Yeah. But he cut me pretty good, the fucker. Lucky for me, the other guy had to come out then, so the raiders ran. All that's left is his cloak. And you've got no idea why they did it? Something must have gone wrong for them. They ran off without taking anything. Hmm. Can you help me? Help you? And how have you helped me? Get stronzo. Any idea where I might find this Ginger? Well, that's the thing. He parked up and left. What? Look, I know how he looks. But Ginger is a fine fellow. I don't believe you had anything to do with the attack. Where could he have fled to? Eh, I might go. But you've got to promise me one thing. When you find him, listen to what he has to say before judging. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. He gets some well with them. I think that's where he's gone. And where is that? Hmm. No idea. They've always kept to themselves. You know, charcoal burners. But the forest is full of folk like that. They could be anywhere. Aye. Except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm towards Watte, you'll come across one of their camps. Only... Only what? Ginger didn't go that way, though. Hmm. He always went by the big road, through the woods in the direction of Ujits. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. Ah, beh, ovviamente. Carbonite. So if I go through the woods along running water, I'll find them. Exactly. Bene. Ok. Allora. Dobbiamo... Interrogo il carbonite al sui, trova Ginger lo stagliere scomparso di Neuhoff. Va bene. Dov'è il mio cavallo? Pebbles. Andiamo, Pebbles. Ok. Eh. È un po' da andare. Andiamo a vedere a sud che cosa succede. Devo cercare di risolvere il problema, così almeno il capitano non ce l'avrà a morte con me. E ha tutte le ragioni per esserlo. Posso perché armi no caratteri che lei la prende di più ma lärm placei pelle. Qual è un po' da Canada e che vorrei эту caratterizmente?